Abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi e volevamo portare a casa il risultato come ogni volta che scendiamo in campo. Purtroppo hanno avuto la meglio loro ma siamo scesi in campo con la voglia di vincere e analizzando la gara abbiamo disputato una buona gara al di là del risultato. Mi sono adattato bene, ci è voluto del tempo ovviamente infatti i primi mesi ho avuto meno spazio sicuramente questo sarà stato il motivo quindi quello di capire l'ambiente, di capire tante dinamiche e adesso sono contento di quello che sto facendo ma ripeto devo lavorare ogni giorno per migliorarmi ancora. Ovviamente adesso c'è l'ultima partita da fare ancora ed è una partita particolare che i tifosi spezzini vorranno che battiate oppure che facciate il massimo per fare il risultato migliore possibile. La nostra volontà è quella di fare una grande partita e di portare a casa il risultato, questo è quello che vogliamo assolutamente quindi lavoriamo da oggi, iniziamo a preparare questa partita nel migliore dei modi perché vogliamo finire l'anno davanti ai nostri tifosi nel migliore dei modi possibile. Ancora non è detto però se dovesse salire il Frosinone penso che sia una cosa giusta nel senso ha fatto un grande campionato e alla fine se si saliranno loro significa che avranno fatto meglio degli altri. Il nostro è un ramarico forte perché era un obiettivo che potevamo raggiungere, non l'abbiamo raggiunto, non ne dobbiamo fare una tragedia però dobbiamo capire anche dove potevamo fare meglio e dove invece abbiamo fatto quello che potevamo fare. Quindi sicuramente da qualche partita abbiamo fatto qualche errore di drop e sicuramente ci servirà per il futuro.